Mi ricordo tutto, ero sfollato nelle campagne vicinissime ad Ortona, ben protetto, dove eravamo sfollati avevano una grotta, una casa molto grande, quindi eravamo sicuri. Quindi la battaglia casa per casa l'abbiamo sentito quando siamo rientrati ad Ortona, subito dopo la presa di Ortona. Circa dieci giorni di dura battaglia casa per casa dal 20 al 28 dicembre di esattamente 80 anni fa. Migliaia di morti tra civili ma migliaia di vittime anche tra i contendenti. Da una parte i paracadutisti tedeschi decisi a mantenere le posizioni, dall'altra l'esercito canadese chiamato a sfondare ad est l'invalicabile linea Gustav, impresa poi coronata ma dal versante occidentale tra Minturno e Cassino. Una battaglia epica, quella di Ortona, tra le più importanti del fronte italiano della Seconda Guerra Mondiale, denominata per la tecnica di combattimento la piccola Stalingrado. Il 28 dicembre Ortona fu finalmente liberata, anche se il conflitto si protrasse tra vari cannoneggiamenti fino al giugno del 44. Una pagina incancellabile, ricordata con un consiglio comunale straordinario al teatro Francesco Palotosti, alla presenza anche dei sindaci di Cassino e Minturno, alle quali Ortona è legata da un gemellaggio ultra trentennale. Bisogna unirsi, bisogna investire sulla forza della memoria, sulla fratellanza tra i popoli, perché solo così forse potremmo trasmettere alle future generazioni quei valori di democrazia, quella democrazia che ci è stata regalata, donata dai tanti militari canadesi che hanno sacrificato la propria vita insieme ai 1314 ortonesi, vittime civili di quella atroce battaglia. Nel corso della seduta anche un videomessaggio dell'ambasciatrice canadese in Italia, Elissa Goldberg, ha a testimoniare uno strettissimo legame tra Ortona e il popolo canadese, mentre i sindaci di Cassino e Minturno, con la loro presenza, hanno non solo rinnovato un gemellaggio che sarà alimentato da frequenti scambi interculturali con il coinvolgimento soprattutto delle scuole, ma hanno anche voluto rimarcare quanto sia importante, specie in un contesto storico come questo, promuovere la pace e l'amicizia tra le comunità, a discapito di ogni guerra. I Cassino e di Ortona sono state legate purtroppo dai tragici eventi del secondo conflitto mondiale e a seguito di questo hanno sottoscritto un patto di gemellaggio nel 1991, proprio a testimonianza, al ricordo di quegli eventi tragici e far sì che l'amicizia tra queste città potesse portare avanti un messaggio di pace oggi ancora più attuale in cui vediamo purtroppo i ripetersi di conflitti nel mondo. Diventa ancora più importante la memoria, quindi divendono ancora più importanti questi eventi, questi momenti, perché purtroppo, ahimè, il sentimento che pensavamo fosse ormai dimenticato, quello della guerra, della distruzione, della lotta fra popoli, si riaffaccia anche in Europa e quindi è ancora più giusto e più importante trasmettere alle nuove generazioni il ricordo di quello che fu per testimoniare che nella guerra non ci sono vincitori, ci sono solo sconfitti.